Ciao a tutti i Fortniteers, benvenuti sul LeonTube Eccoci qui con la quarta prova degli incarichi dei giurati della parte 2 Dobbiamo entrare in contatto con Amy di nuovo al bracere Eccolo qua nell'isolotto, il bracere è dritto me Ok entriamo, vediamo un po' quante fasi è questa qua Tre fasi Testiamo il barco astrale di Stellan? Ho integrato parte del mio codice dei recipienti che mi hai dato e ho creato un barco di prova con i progetti di Stellan E' un giorno perfetto per fare da sacrificabilissima cambia Non sanno cosa significa cambia, fidati così non faranno scenate Lancia ogni prova attraverso il barco di prova e recupera Nalla per raccio, controllerò i risultati Ok dobbiamo andare a questo barco di prova che ha costruito Amy E inviare i tre recipienti che abbiamo trovato prima al suo interno per vedere che cosa fa Quindi andiamo, siamo abbastanza vicini Abbiamo trovato un mezzo di trasporto molto comodo e molto veloce come la moto Anche molto divertente Quindi andiamo avanti Facciamo anche un trick Non mi ha saltato Ah ecco Ok allora andiamo a vedere bene dove Ok sono qui al centro Portiamo Facciamo anche la moto Portiamo giù Allora eccoli qua Quindi non dobbiamo fare altro che interagire per lanciarli in questo mini marco temporale E adesso dobbiamo raccogliere i recipienti di prova di Amy e osserva i risultati Allora ah dobbiamo andare a vedere dove sono stati lanciati Quindi ad esempio li troviamo qui Vediamo se sono tutti nello stesso punto Allora Ok Quindi ora andiamo Fermiamo un attimo Eccoci ci stiamo avvicinando Eccolo qua si inizia a vedere il segnale Ok dov'è? Qua sopra Andiamo un attimo andiamo a vedere se possiamo andare a piedi Direi di no Allora andiamo a vedere dov'è Ah eccolo là Non l'avevo visto Ero quasi andato addosso Ok quindi sono tre Vanno recuperati Ok dobbiamo andare a recuperarli Tutti e tre finiscono in zone lontane Possiamo farlo tranquillamente In più di una partita Adesso andiamo a recuperare Questo qua Eccolo qua Il secondo lo troviamo qui Ok dobbiamo andare a recuperare il terzo Ci vediamo tra poco Ok ecco qua il terzo Ci sta andando anche Quest'altro giocatore Lo troverai La mia non ha l'interno per salvare Ok Ok Anche questa Quarta missione è terminata E gli incarichi Quindi sono tutti completati Ci rivediamo tra due settimane Con gli incarichi dei giurati Se il video vi è piaciuto mi raccomando Un bel mi piace Condividetelo con i vostri amici Nei vostri social Non dimenticate di lasciare un messaggio E se vi va come sempre Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale E non dimenticate di cliccare la campanella Per non perdere i nostri aggiornamenti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti